Buonasera a tutti, bentrovati da parte dell'ufficio catechistico della Diocesi di Roma per questo nostro quarto incontro online sul corso di formazione permanente che ha come tema la preghiera, ma quinto incontro visto che il quarto l'abbiamo fatto in presenza sabato scorso il 25 febbraio al monastero dei Santi Quattro coronati con le suore agostiniane di cui la priora è suor Fulvia che tiene appunto questi incontri, questo percorso sul tema, sulla tematica della preghiera. Bene, rinnovo il benvenuto a tutti, come sapete gli incontri iniziano alle nove fino alle nove e quarantacinque e io rinnovo a tutti se avete delle domande, dei riscontri che volete inviare al nostro ufficio anche se non lo fate tramite chat durante gli incontri potete inviare una mail al nostro ufficio, all'indirizzo del nostro ufficio, poi ve lo metto nella chat e se non avete domande specifiche sulla tematica dell'incontro che ogni sera tratta suor Fulvia, almeno avere una qualche vostra considerazione e ritorno su quello che è il corso, che sono gli incontri che sono avvenuti fino ad ora. Bene, con questo passo la parola al nostro direttore Don Andrea per iniziare il nostro incontro. Buonasera a tutti, bentrovati, sono contento di cominciare questa seconda parte del corso online dopo che ci siamo visti sabato mattina con moltissimi di voi al Monastero dei Santi Quattro. Spero che sia stata un'esperienza bella quella della preghiera insieme alla comunità del monastero e ci tenevamo a mantenere questa forma mista del corso, una parte più di ascolto, come sono questi incontri che facciamo con Sor Fulvia e poi una parte di preghiera pratica. Sabato molti di voi ci hanno detto che erano molto contenti, che la preghiera gli aveva fatto molto bene, che avevano molto apprezzato la comunità orante. Io in particolare devo fare i complimenti a Sor Fulvia, cantano benissimo le sorelle, è stato veramente molto bello. Fateci caso anche voi come catechisti un po' dal punto di vista metodologico, quando si organizza un momento di preghiera aperto è molto importante curare l'aspetto del canto, perché il canto aiuta moltissimo la preghiera, anche un canto molto semplice. Ricordate sabato per esempio ripetevamo la frase del salmo come il cervo anela all'acqua così io anelo a te ardentemente, l'abbiamo ripetuta tante volte con una melodia molto molto semplice e già quello ti aiuta a pregare, no? Quindi anche non è che serve, dici ma noi non sappiamo fare la polifonia, va bene, ma noi non siamo bravi, non so suonare la chitarra, non importa, comunque sia non si può fare un momento di preghiera comunitaria senza un canto insieme, aiuta moltissimo a entrare nella preghiera. E anche il simbolo, il fatto di valorizzare i simboli cristiani che abbiamo. Innanzitutto ovviamente per esempio c'era il crucifisso che è stato messo a un certo punto al centro della nostra preghiera con accanto una lampada, no? Il segno della fede accesa, ardente, che ci ricorda sempre la nostra preghiera. Dovremmo accendere sempre una candela quando stiamo pregando, un lume, qualcosa che ci ricordi il simbolo appunto della fede orante. In fondo è quella candela che riceviamo nel battesimo, no? Quella luce accesa che ci viene data fin dal principio. Quindi vi invito a non solo a leggere l'esperienza, cioè non solo a vivere l'esperienza, ma anche poi a leggerla con gli occhi del catechista chiedendo che cosa ha fatto di questa esperienza, una bella esperienza che è stata emozionante, che è stata pacificante, insomma che è stata, come ci avete descritto, un'esperienza positiva. Bene, allora adesso cominciamo questa seconda serie di incontri online, come diceva Domenico, che poi ci porteranno a un altro incontro in presenza a metà marzo. Allora lascio la parola a Sor Fulvia, che ringrazio come sempre per la sua disponibilità e per il servizio che ci fa in questi incontri. Eccomi, buonasera a tutti, bentrovati. Pensavo che nella, no nella confusione, però nel momenti concitati dell'inizio non ci siamo mai fatti un segno di croce insieme qui, almeno. Ci pensavo perché in questo momento le mie sorelle, la mia comunità è giù in Basilica, i primi giovedì del mese facciamo l'adorazione per le vocazioni, insieme a dei ragazzi che stanno facendo discernimento, a un gruppo di giovani. E noi abbiamo una filodiffusione in alcune zone della casa che ci diffonde ciò che accade in Basilica. Ecco, quindi prima di collegarmi con l'audio sentivo giù la loro preghiera e il loro canto, che insieme poi ai ragazzi del seminario era un po' più disastrato di quello di sabato, ma più vero, molto caldo. E pensavo proprio questo, ecco che noi siamo, possiamo dire, ecco, che siamo qui riuniti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E chissà, ecco, ho pensato questo perché intanto chiedo scusa, quasi nella routine, l'abitudine dei preti, delle suore, no? Cominciare un incontro con la preghiera. E' anche vero che questi li viviamo un po' anche come incontri di preghiera a tutti. Comunque, oggi, visto che ci siamo conosciuti in qualche modo, ci siamo almeno intravisti, eravamo molti sabato, e adesso forse è un po' più facile, ecco, parlare. Per questo, ecco, ho pensato di potermi cimentare in una, così, in una conversazione con voi su un tema che a qualcuno potrebbe sembrare un po' fuori o a margine dai discorsi che stiamo facendo, ma è un tema a me carissimo e che, devo dire, da quando sono in monastero, abita la mia vita e la mia preghiera. E lo vedete qui nella prima slide di introduzione che ha già esposto Domenico, che introduce già la parola di oggi, popolo, popolo di Dio. E vedremo se e che cosa ha a che fare con la preghiera e perché è giusto a questo punto del nostro discorso introdurla. Allora, intanto sabato abbiamo cercato di tenere insieme tre cose fondamentali, no? Che abbiamo già detto nei nostri incontri. Prima di tutto l'iniziativa di Dio, abbiamo scoperto che è lui che ci mette nel cuore un desiderio, un desiderio di eh di cercarlo. E poi eh anche per venire o per partecipare a qualunque incontro di preghiera come quello di questa sera c'è la risposta personale. Quindi ognuno di noi si è dovuto liberare dai propri impegni o sabato, ha dovuto lasciare le famiglie, non lo so, però ecco mh la risposta è sempre personale, ma poi è necessario eh nell'esperienza, in un'esperienza autentica di vita cristiana scoprire e riconoscersi appartenenti ad un popolo. Ecco mh sabato all'inizio dell'incontro ho cercato di dirvelo, ma un po' eh tra l'emozione, un po' eh non l'ho detto bene, eh però ehm è importantissimo mh eh che ehm lo teniamo presente quando ehm sia preghiamo in modo personale sia preghiamo eh comunitariamente. Ecco io vorrei questa sera mh per quanto ci sarà possibile scoprire insieme a voi che apparteniamo al popolo di Dio e che questa appartenenza ha molto a che fare con la preghiera. Per dire questo e quantomeno per cercare di intuirlo e comprenderlo dobbiamo fare eh dei passi indietro rispetto a dove ci troviamo adesso. Il primo passo indietro che però è sempre un annuncio importante è quello della parola di Dio che ci racconta eh l'esperienza della prima comunità di Gerusalemme della prima comunità cristiana che eh gli atti Luca ce li ha descrive così. Eh qui ho tenuto insieme due brani che raccontano l'esperienza che vivevano i primi mh raccolti, i primi convocati potremmo dire. Erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nell'unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. Ogni giorno tutti insieme frequentavano il tempio, spezzavano il pane a casa, prendevano i pasti con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo la simpatia di tutto il popolo. La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e un'anima sola. Ma fra loro tutto era comune. Con grande forza gli apostoli davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e tutti godevano di grande favore. Allora la parola di oggi è la parola popolo, la parola di Dio che vi invito a ruminare in questo tempo, è proprio questi due pericopi degli atti degli apostoli che ci descrivono questa primissima comunità con delle caratteristiche molto semplici. L'ascolto, l'unione fraterna, la preghiera, la condivisione e la simpatia. Doveva essere gente eh simpatica, gioiosa, serena forse, no? Eh facevano questa esperienza di stare a contatto con la forza degli apostoli che davano testimonianza con come certamente possiamo immaginarla con grande vigore della risurrezione del Signore. Ecco questo dovrebbe essere eh la chiesa di ogni tempo, questo dovrebbe essere eh dovremmo essere noi dovremmo dovrebbe essere la chiesa oggi, questa assiduità nell'ascolto eh nell'unione fraterna, nella celebrazione eucaristica eccetera. Un ulteriore passo indietro per eh capire che cosa ha a che fare il popolo ehm e l'appartenenza a questo popolo rispetto alla preghiera la dobbiamo fare di qualche più di qualche migliaio di numeri del catechismo della Chiesa Cattolica. Noi ci troviamo eh dopo il duemila e cinquecento eh parlando della preghiera ma mh potremmo quasi dire all'inizio eh nel numero settecentottantuno e il catechismo descrive così citando eh uno delle una delle costituzioni conciliari la Lumen Gentium dice così la chiesa popolo di Dio in ogni tempo in ogni nazione accetto a Dio chiunque lo teme e opera la sua giustizia tuttavia piacque a Dio di santificare e salvare gli uomini non individualmente senza alcun legame tra loro ma volle costituire di loro un popolo che lo riconoscesse nella verità e santamente lo servisse. Si scelse quindi per sé il popolo israelita stabilì con lui un'alleanza e lo formò progressivamente. Allora eh abbiamo detto le volte scorse che ehm Dio vuole entrare in relazione con noi e ma lo fa eh potremmo dire eh in una forma che non ci aspetteremmo che forse noi a volte neanche desideriamo no? Noi pensiamo che la preghiera sia questo stare eh col mio Gesù questo cuore a cuore intimo intimo esclusivo esclusivo e che ha la sua ragion d'essere ma eh non è tutto non è tutta l'esperienza della preghiera non è tutta l'esperienza della fede ehm la rivelazione la scrittura ci insegna che se la fede non è condivisa non è semplicemente non è e ecco che eh Dio quindi si costituisce un popolo e andando qualche numero avanti ehm come lo costituisce questo popolo? Questi sono numeri che parlano dei sacramenti dell'iniziazione cristiana che quindi voi che siete eh catechisti conoscete benissimo quindi non è che voglia istruirvi io su questo però secondo me è molto importante scoprire dove si innesta la nostra identità e ehm si innesta qui nel santo battesimo che è ci dice il catechismo il fondamento di tutta la vita cristiana il vestibolo di ingresso alla vita dello spirito e la porta che apre l'accesso agli altri sacramenti mediante il battesimo siamo liberati dal peccato e rigenerati come figli di Dio sentite qua e lo sapete diventiamo membra di Cristo siamo incorporati alla chiesa e resi partecipi della sua missione ecco in questo incontro vorrei convincerci e convincerci tutti quanti qualora ce ne fosse bisogno del fatto che ehm l'appartenere in virtù del battesimo e degli altri altri degli altri sacramenti dell'iniziazione cristiana al popolo di Dio è una questione identitaria che innerva tutta la nostra vita e quindi tutta la nostra preghiera anche la preghiera eh più solitaria più nascosta più sofferta che rivolgiamo a Dio eh la possiamo fare perché appartenenti a questo popolo perché membra di questo corpo il cui capo è Cristo e nei numeri successivi infatti eh incorporati alla chiesa corpo di Cristo il battesimo ci fa membra del corpo di Cristo siamo membra gli uni degli altri dire a Paolo e il battesimo incorpora la chiesa guardate che bella questa immagine dai fonti battesimali di tutto il mondo di tutte le chiese del mondo nasce l'unico popolo di Dio della nuova alleanza che supera tutti i limiti naturali o umani delle nazioni delle culture delle razze dei sessi in realtà noi tutti siamo stati battezzati in un solo spirito per formare un solo corpo e ancora il catechismo ci dice che siamo pietre vive i battezzati sono pietre vive per la costruzione di un edificio spirituale di un sacerdozio santo per mezzo del battesimo sono partecipi del sacerdozio di Cristo della sua missione profetica e regale queste io lo so che sono cose che sapete ma sono i fondamentali per poter dire ehm perché preghiamo chi preghiamo dove preghiamo anche quando ehm crediamo di essere soli ecco non lo siamo mai perché siamo una nazione santa un popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere meravigliose di lui che ci ha chiamati dalle tenebre alla sua ammirabilissima luce ammirabile luce il battesimo ci rende partecipi del sacerdozio ehm comune tutti i fedeli allora siamo incorporati alla chiesa per esercitare ehm la stessa missione della chiesa impegna che ci impegna il sigillo battesimale ci impegna ma ci abilita soprattutto a servire Dio mediante una viva partecipazione alla santa liturgia della chiesa esercitare il loro sacerdozio battesimale con la testimonianza di una vita santa e con una operosa carità allora ehm mi sembra che ehm tutta la riflessione anche eh magisteriale ehm successiva alla non solo al catechismo ma eh successiva anche a tutta la riflessione sul che ha portato il concilio ecumenico Vaticano II sulla chiesa eh come popolo di Dio ci possa aiutare a collocarci in uno spazio in cui eh dobbiamo davvero mh convertire il cuore per comprendere che ehm se la nostra preghiera può essere abitata da molti da molti volti da molte storie da molte persone e parleremo di quello che è la preghiera di intercessione è perché ehm qualcuno ehm ha riconosciuto che in Dio la salvezza è una realtà comunitaria papà Benedetto sedicesimo lo dice mh meravigliosamente nella Spesalvi pensate è una una lettera enciclica del duemilasette e dice così mh sta facendo delle riflessioni poi secondo me se Don Andrea è d'accordo dovremmo anche dire che cosa dovreste studiare veramente comunque questa mh questo documento è meraviglioso e eh Benedetto dice sulla base della teologia dei padri in tutta la sua vastità De Lubac ha fatto una sintesi e ha potuto mostrare che la salvezza è sempre stata considerata come una realtà comunitaria quello che mh Papa Francesco oggi dice no in modo forse più semplice nessuno si salva da solo la stessa lettera gli ebrei parla di una città quindi di una salvezza comunitaria e va avanti questa vita vera la vita perenne con Dio verso la quale sempre cerchiamo di protenderci è legata all'essere nell'unione esistenziale con un popolo eccolo qua e può realizzarsi per ogni singolo solo all'interno di questo noi questa salvezza presuppone appunto eh sentite che è bella questa espressione l'esodo dalla prigionia del proprio io questa è un'espressione eh che calza in questo tempo cuaresimale meravigliosamente stiamo leggendo eh nell'ufficio questa prigionia eh degli ebrei nell'ufficio delle letture questa prigionia degli ebrei che eh presto ormai sappiamo eh saranno liberati dalla e compiranno il loro esodo ecco dalla terra d'Egitto da questa prigionia e noi anche dobbiamo vivere questo esodo dalla prigionia del nostro io perché solo nell'apertura di questo soggetto universale si apre anche lo sguardo sulla fonte della gioia sull'amore stesso su Dio ecco a me questo colpisce moltissimo perché ehm anche rispetto alla vita eh che noi viviamo noi come comunità monastiche in generale ma la vita religiosa e come la vita nel ministero sacerdotale no? Come se ehm noi ci salviamo noi ecco ci prendiamo cura di noi il nostro il mondo della chiesa e a volte anche dei laici che sono nella chiesa sembra un mondo chiuso un mondo che si salva da se stesso ecco credo che questo io eh collettivo del quale rischiamo di essere prigionieri invece ehm ecco mh è da questo che dobbiamo essere liberati e dobbiamo uscire mi sembra che ehm la chiarezza di un'appartenenza a un popolo ci sradichi da un intimismo da un modo individualista di vivere ehm pericolosamente direi la relazione con Dio e quindi anche la relazione con gli altri non riconosciuta come dono ma ehm posseduta ecco o meglio cerchiamo di possederla ma mettiamo le mani eh probabilmente rovinando dove vogliamo trattenere a fronte di questo vi suggerisco anche eh di leggere ehm la Costituzione Apostola avrete sicuramente fatto eh quindi potete oggi potete staccare prima se non però mh se ripeto le cose che già sapete non le volete sentire però se avete i quattro volumi della liturgia delle ore nel primo volume che è quello eh con cui si inaugura l'anno liturgico della con l'avvento eh il primo volume premette la Costituzione Apostolica con la quale venne promulgato nel millenovecentosettanto l'ufficio divino rinnovato questo e eh i principi e le norme per la preghiera della liturgia delle ore è un documento bellissimo ehm non soltanto didascalico ma anche eh comunica il senso profondo della preghiera condivisa della preghiera comune e della preghiera di tutta la Chiesa e comunque sottolinea anche qui questo aspetto importantissimo l'unità della Chiesa orante opera dello Spirito Santo che è lo stesso in Cristo in tutta la Chiesa e nei singoli battezzati. Noi questo ce lo dimentichiamo noi non siamo un corpo solo un popolo solo ehm perché abbiamo fatto qualche rito particolare ma noi siamo un corpo solo in Cristo cioè Cristo che ci eh riunisce che ci convoca e ehm battezzati come siamo nel nome del padre del figlio dello Spirito Santo abbiamo questa appartenenza eh comune condivisa che anima la nostra vita qualunque latitudine eh ci troviamo. Lo stesso Spirito parlando della preghiera viene in aiuto alla nostra debolezza e intercede con insistenza per noi con gemiti inesprimibili. Egli stesso in quanto spirito di figlio di figlio infonde in noi lo spirito da figli adottivi per mezzo del quale gridiamo finalmente Abba padre. Finalmente gridiamo questa espressione così eh tenera desiderosa e abbandonata eh padre. Non vi può essere dunque ehm sentite quanto è eh importante questa affermazione non vi può essere dunque nessuna preghiera cristiana senza l'azione dello Spirito Santo che unificando tutta la Chiesa per mezzo del figlio la conduce al padre. Allora se la mia e la tua, la vostra è una preghiera veramente cristiana non è solo mia ma è di tutta la Chiesa e non solo è per tutta la Chiesa perché è unita allo Spirito di Cristo. Ecco qui in nel numero successivo mh il documento insiste sull'importanza del carattere comunitario della preghiera eh non vuole banalizzare non vuole ehm escludere eh la preghiera personale anzi ne abbiamo già detto eh quanto è importante quanto è necessaria la nostra vita spirituale ma anche quello che ci diceva all'inizio Don Andrea quanto è importante anche curare ehm le relazioni all'interno della comunità attraverso la preghiera. L'esempio e il comando del Signore degli Apostoli di pregare sempre assiduamente non si devono considerare come una norma giuridica ma appartengono questo della preghiera all'intima essenza della Chiesa che è comunità e deve quindi manifestare il suo carattere comunitario anche nella preghiera. Non a caso negli atti degli Apostoli quando per la prima volta si fa parola della comunità dei fedeli questa pari riunita in preghiera con alcune donne Maria la madre di Gesù e con i fratelli di lui. Sono i discepoli che vengono descritti in questa prima immagine eh della Chiesa. Sono riuniti in preghiera. È quello che vi dicevo degli atti degli Apostoli. Ehm successivamente sottolinea proprio questo quello che dicevamo la volta scorsa no? Sebbene la preghiera fatta nella propria stanza e a porte chiuse sia sempre necessaria e da raccomandarsi e venga anch'essa compiuta dai membri della Chiesa per Cristo nello Spirito Santo tuttavia all'orazione della comunità compete una dignità speciale che non vuole sminuire eh la preghiera personale ma ha un valore speciale perché perché Cristo stesso ha detto dove sono due o tre riuniti nel mio nome io sono in mezzo a loro. Allora questa eh noi conosciamo di Gesù il suo ritirarsi ehm pregare da solo salire sul monte pregare tutta la notte e quindi questa relazione intima e personale e certamente ci ha mostrato eh la necessità di coltivarla di tesserla in modo assiduo e fedele e vitale eh ma è Cristo stesso che ha detto dove due o tre sono riuniti nel mio nome io sono in mezzo a loro è inequivocabile ecco e la Chiesa ci conferma questo no? Quando dice che Gesù è presente nell'assemblea convocata e riunita nella parola proclamata nell'altare nell'eucarestia e questo ehm è davvero molto importante ecco è Cristo stesso che eh è il tesoro di tutta la Chiesa e che dice di essere dove siamo in più di uno non che dentro di me o in noi non ci sia ma mh questo dà valore in vera ehm il la necessità di questa appartenenza a un popolo orante allora ehm qui vi ho vi ho riportato dei testi bellissimi di Sant'Agostino perché ehm perché lui anche se fosse il problema no? Lui era guardate uno che abbiamo visto anche forse sabato no? In alcuni testi che vi abbiamo proposto uno speleologo dell'anima cioè uno che eh scavava in profondità dentro se stesso ma eh capiva che non bastava questo per lui la appartenenza alla Chiesa ehm è stata fondamentale gli ha veramente eh rivoluzionato la vita e convertito il cuore e qui in questo eh in questo commento al salmo centotrenta eh lui dice questo no? Il salmo dice così dal profondo a te grido signore signore ascolta la mia voce siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica e Agostino dice la voce di chi canta nel salmo in questo salmo non deve intendersi come voce di un singolo individuo ma come voce di tutti i componenti del corpo di Cristo a me questo impressiona molto ogni volta che cantiamo questo salmo e siccome questi tutti sono compaginati nel suo corpo nel corpo di Cristo possono parlare come un solo uomo in effetti molti e l'uno sono la stessa entità in se stessi sono molti siamo tanti ma nell'unità dell'unico corpo nel dell'unico Cristo sono uno solo ed è per questo motivo che la mia voce ehm è voce della Chiesa la tua voce è voce della Chiesa quando tu preghi sei voce della Chiesa sei voce di un intero popolo commentando il Vangelo un brevissimo commento ritorna su questo tema e dice questa voce non è la voce di un uomo solo eppure è la voce di un uomo solo non è la voce di un uomo solo perché i fedeli sono molti molti granelli che gemono fra misti alla paglia sparsi in tutto il mondo e tuttavia è la voce di uno solo perché tutti sono membra di Cristo e perciò un corpo solo io vi invito a riflettere su queste custodirle a riflettere su queste parole perché ehm aprono eh un orizzonte enorme alla nostra preghiera ehm che molte volte noi invece eh trattiamo un po' come se fosse una cosa piccola eh fra me e me a volte neanche fra me e Dio ma una cosa eh di poco conto una cosa di poco conto ebbene non è così non è così e ultimamente poi di nuovo un altro mi sembra c'è un'altra ecco molte membra un corpo solo Cristo perciò noi tutti insieme uniti al nostro capo siamo Cristo Avostino aveva avuto un'intuizione particolarissima sul Christus totus sul corpo di Cristo ha fatto tutto un approfondimento che io non sono in grado di eh raccontarvi e ma noi tutti insieme uniti al nostro capo siamo il Cristo senza il nostro capo non vaniamo nulla perché perché con il nostro capo siamo la vite senza il nostro capo siamo tralci spezzati destinati non a qualche opera della dell'agricoltore ma soltanto al fuoco sì o signore nulla senza di te ma tutto in te poiché tutto quello che egli fa per mezzo nostro sembra che siamo noi a farlo in verità egli può molto tutto anche senza di noi noi niente senza di lui ecco la radicalità di questa appartenenza che si fa voce nella preghiera che si fa ehm unita al corpo di Cristo sotto uno stesso capo siamo un unico corpo ecco questa è ehm diciamo proprio il ehm da un padre della chiesa ora io parteggio chiaramente però senza Agostino non avremmo la chiesa che abbiamo oggi eh non avremmo eh forse altro perché lo Spirito Santo si sarebbe divertito comunque nella storia ma mi sembra di poter dire che la ricchezza e la consapevolezza ecco di essere popolo allora dobbiamo anche a lui a tanti altri padri che ci hanno ehm speso la vita e la fatica anche della preghiera per intuire delle cose e trovare il modo di comunicarcele che non è poco ecco ehm legato a questo vi volevo aggiungere soltanto dei sì dei piccoli eh dei piccoli input presi da sempre da magistero della dei papi quindi Benedetto e poi Francesco eh qui Benedetto in quest'altra lettra enciclica meravigliosa la Deus Caritas Est eh precedente alla Caritas Veritate e sta parlando del Sacramento dell'Eucarestia che eh ecco varrebbe la pena di fare un corso solo su questo e e e dice questo ora però c'è da fare attenzione ad un altro aspetto la mistica del Sacramento dell'Eucarestia ha un carattere sociale perché nella comunione sacramentale io vengo unito al Signore come tutti gli altri comunicanti poiché c'è un solo pane dice Paolo noi pur essendo molti siamo un corpo solo tutti infatti partecipiamo dell'unico pane e sempre nello stesso numero continua l'unione con Cristo sentite questa è allo stesso tempo unione con tutti gli altri ai quali egli si dona io non posso avere Cristo solo per me posso appartenergli soltanto in unione con tutti quelli che sono diventati o diventeranno suoi la comunione mi tira fuori di me stesso verso di lui e così anche verso l'unità con tutti i cristiani io non posso avere Cristo solo per me diventiamo vai vai diventiamo un solo corpo fusi insieme in un'unica esistenza amore per Dio e amore per il prossimo sono ora veramente uniti il Dio incarnato ci attrae tutti a sé queste parole sono frutto di una sintesi e di una grandissima sapienza ecco e credo valgano una meditazione più prolungata e mi premeva perché sono dei tesori delle perle ecco che che la Chiesa nella sua generosità ci ha consegnato e che noi che siamo tutti un po' bulimici della vita spirituale così possiamo rischiare mi permetto di trascurare o di dimenticare ecco e nella Caritas in Veritate invece o comunque eh sottolinea sempre questo la creatura umana in quanto di natura spirituale si realizza nelle relazioni interpersonali più le vive in modo autentico più matura anche la propria identità personale non è isolandosi che l'uomo valorizza se stesso ma ponendosi in relazione con gli altri e con Dio non con il mio Dio ma con Dio e con il Dio anche degli altri l'importanza di tale relazione diventa quindi fondamentale il mondo di oggi e questo è del 2009 eh ma comunque è attraversato da alcune culture a sfondo religioso e attenzione che non impegnano l'uomo alla comunione eppure fanno molta gola e attraggono a molte persone perché fanno leva su quella forma individualista di vivere ehm anche la vita spirituale come mia come il mio tesoretto per il mio benessere non impegnano l'uomo alla comunione ma lo isolano appunto nella ricerca del benessere individuale limitandosi a gratificarne le attese psicologiche anche una certa proliferazione di percorsi religiosi di piccoli gruppi o addirittura di singole persone e il sincretismo religioso possono essere fattori di dispersione di disimpegno e quanto è vero questo ehm non per essere come si può dire in modo garbato cioè non per essere eh bigotti ehm chiusi no alle esperienze eh e figuriamoci se mai potremmo essere chiusi al dialogo interreligioso ma dobbiamo stare attenti a questo modo di vivere ehm questo sincretismo dove ci entra tutto eh la meditazione profonda viene confusa con la meditazione cristiana oppure siccome quella funziona eh per risolvere tutte le mie piccole beghe psichiche ehm affronto percorsi eh con dei personal coach i più eh strampalati però ecco abbandono la parola abbandono la preghiera credo poi di recuperarla con altre forme e ecco dobbiamo fare attenzione ai nostri giovani i vostri giovani soprattutto quelli che dovete formare eh credo che da questo mondo siano molto tentati in questo senso e poi ultimamente ecco una brevissima riflessione che Papa Francesco nella Fratelli Tutti fa ehm che è un po' quello che eh ci dicevamo no? In questo mondo che corre senza una rotta comune si respira un'atmosfera in cui la distanza fra l'ossessione per il proprio benessere e la felicità dell'umanità condivisa sembra allargarsi cioè se sto bene devo star bene io mh sino a far pensare che tra il singolo e la comunità umana sia ormai in corso un vero e proprio scisma pensate tutto il tema del creato e non solo ma e dice il non sentire un'appartenenza comune un'appartenenza condivisa il non essere popolo perché una cosa è sentirsi costretti a vivere insieme altra cosa è apprezzare la ricchezza e la bellezza dei semi di vita comune che devono essere cercati e coltivati insieme e la società che ci inganna no? Nella sua nella globalizzazione ci fa sentire eh più vicini non ci rende fratelli questa è un'affermazione che colpisce no? Soprattutto eh i più giovani le più giovani quando eh ne parliamo cioè siamo tutti tutti connessi e siamo paradossalmente caduti in questo tranello siamo meno fratelli guardate cosa accade eh ai confini semplicemente basta guardare no? Cosa accade ai confini del nostro paese siamo più soli che mai in questo mondo massificato che privilegia gli interessi individuali e indebolisce indebolisce la dimensione comunitaria dell'esistenza direi che questo invece è quanto eh la fede l'esperienza della preghiera eh ci fa recuperare eh attingere alle sorgenti del nostro battesimo recuperare questa dimensione che vi dicevo all'inizio è identitaria e costitutiva della vita cristiana della vita di tutta la vita della vita cristiana e quindi della vita di preghiera appartenere a un popolo è chiaro che questo va va costruito cioè ehm con una fedeltà con un'assiduità con una ehm dedizione alle relazioni con una cura ehm delle realtà eh parrocchiale della realtà in cui si fa servizio della propria comunità ma a volte anche solo della propria famiglia e recuperare davvero le radici delle nostre mh della nostra vera spiritualità cristiana a riattingere al battesimo che ha immesso nella nostra vita un'identità comunionale trinitaria da cui sorge solo da lì può sorgere la preghiera qualunque preghiera quella mia piccola piccola il mio rosario biascicato per strada o anche la preghiera una bella celebrazione eucaristica la sorgente è sempre la stessa concludo con Agostino che ha ehm questa espressione così felice e rallegriamoci e rendiamo grazie a Dio per pensate non soltanto perché siamo diventati cristiani ma siamo diventati Cristo stesso il corpo di Cristo e dice eh ma lo capite fratelli vi rendete conto della grazia che Dio ha profuso su di noi stupitevi gioite siamo diventati Cristo se Cristo è il capo e noi le membra l'uomo totale è lui e noi pienezza di Cristo sono dunque il capo e le membra il Cristo e la Chiesa ecco questa questa appartenenza quello che in realtà eh ci ha fatto se volete eh emozionare commuovere coinvolgere ehm nella preghiera di sabato ma quello che ci fa emozionare quando i nostri e i vostri bambini fanno la prima comunione quello che eh ci commuove quando il vescovo ehm celebra la cresima no? Cioè è che sentiamo un'appartenenza sentiamo che questi sono figli nostri sentiamo che siamo dentro un corpo apparteniamo a quest'unico corpo ecco dentro e solo dentro questo corpo ha senso e a forza la nostra preghiera ecco io ho finito la mia arringa spero di avervi convinto che anche noi qui in questa fortezza eh medievale ehm apparteniamo alla Chiesa siamo un corpo solo con voi di là dello schermo e tutti grazie Sor Fulvia perché anche stasera anche stasera ci hai dato un'altra perla hai chiamato tu hai nominato tu questa bella parola perla perché è veramente arricchente questi tuoi piccoli brevi momenti questi incontri che stiamo tenendo per tutti noi e la parola dovresti sottolineare la parola anche se penso si sia capita no ho detto popolo 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 e poi gli atti ho detto a sfinimento basta ho scritto nel titolo per a scanso di vivo ci la risottolineiamo popolo appartenenza bene bene grazie mille allora Sor Fulvia bene grazie a voi grazie a tutti e ci vediamo giovedì prossimo ancora buonanotte ciao 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 Grazie a tutti.